Senatrice Biti, un suo commento a caldo sul discorso del Premier Draghi in aula? Sicuramente un discorso molto completo che ha toccato tanti piani importanti per il prossimo Consiglio europeo. Mi ha colpito molto e ci ha colpito molto ancora l'impegno su una politica energetica che deve essere assolutamente comune, su una politica per la difesa e per la politica estera che ha necessità di rafforzarsi in Europa e di vedere una maggiore partecipazione di tutti gli Stati insieme e personalmente non posso rimanere indifferente ancora una volta alla grande attenzione del Presidente Draghi a chi è più sfortunato, sia alla popolazione ucraina così in difficoltà e ringraziamento ovviamente a tutti i cittadini italiani, ma anche la grande preoccupazione per l'aumento dei prezzi, soprattutto del cibo, che può mettere a duro rischio anche gli aiuti e la cooperazione verso i paesi più poveri del terzo mondo che potrebbero essere ancora più colpiti nella loro disperazione da questa situazione.